Siamo qui con il signor Luigi Cataldi e Venturino Vagnoni, presidente del gruppo cinofilo di Ascoli Piceno e dell'associazione Prosegugio di Ascoli Piceno. Ascoli Piceno è fermo, esatto. Il 12 e 13 marzo, proprio qui al centro logistico Marconi, si svolgerà il 33esimo campionato sociale di corsa sul lepre dei cani, ce ne saranno circa mille. In cosa consiste questo incontro e come si svolgerà? Questa è una delle tante manifestazioni organizzate dalle associazioni di razza per la valutazione morfo funzionale dei cani iscritti ai libri genealogici. Quindi questi cani prima si esibiranno in un'esposizione per la valutazione fisica, morfologica e poi in pieno campo nelle zone di ripopolamento e cattura. Perché ogni cane di questi qui che sono iscritti ai libri genealogici riconosciuti devono essere costruiti fisicamente e lavorare secondo i rispettivi standard di razza fissati dall'ENGI e riconosciuti dalla Federazione Cinologica Internazionale. Chi volesse in qualche modo seguire questa manifestazione perché è appassionato di cani oppure vuole seguire la bellezza di questi animali di razza, a che ora può presentarsi, quando può venire? Allora la manifestazione si articola attraverso una esposizione che si terrà qui al complesso logistico Marconi sabato dalle ore 10 fino a tardasera. Contestualmente ci saranno le prove in pieno campo singoli e coppie. Poi invece la domenica non ci sarà l'esposizione ma solo la prova per mute, cioè cani da 4, 5 e 6 fino a 6 soggetti che correranno condotti da un unico proprietario e questi andranno a correre nelle varie riserve di Ascoli e di Fermo, quindi su 16 zone di ripopolamento e cattura. Il consiglio che diamo agli appassionati è di venire qui sabato mattino, il raduno è previsto alle ore 6 e l'inizio dei concorsi avverranno verso le 7, quindi trovarsi qui al raduno presto purtroppo. Questo è un evento molto importante perché i cani, i proprietari e anche i giudici verranno da tutta Europa, però la Proseguio è un'associazione che opera sul campo giornalmente tutto l'anno. In cosa consiste la vostra opera e quali sono le vostre iniziative? Le nostre iniziative, quest'anno posso dire che abbiamo fatto 3 o 4 prove, prove di eccellenza sui cani, sempre questi tipi di cani, stiamo sempre in attivo, viene tutta la gente di tutta Italia. Questa è unica gara, già ne abbiamo fatto 3 o 4. Un'attività impegnativa tutto l'anno che comunque aiuta anche a mantenere il territorio sotto controllo. Oltre all'aspetto cinotecnico, prettamente cinotecnico, ricordiamoci che le persone arrivano, occupano gli agroturismi, acquistano dei prodotti tipici, quindi riteniamo di operare anche nell'interesse del territorio, anche del mondo agricolo che ci sopporta, nel senso che andiamo a correre sui terreni che sono di agricoltori e in questo momento in cui l'agricoltura va male, questa attività rappresenta anche un momento secondo me importante per la divalorizzazione dei prodotti tipici a Scolani e Fermani.